Upas Marina Gli spoiler di un posto al sole della puntata in onda venerdì 10 gennaio su Rai 3 sono pronte a regalare emozioni a volontà ai loro numerosi spettatori Premo di cotte e crude Marina dovrà vedersela con un problema davvero spinoso Anche Angela avrà delle problematiche brucianti da sistemare che riguarderanno suo marito e sua figlia O, di fatti, ha commesso un gesto inaspettato che però non ha trovato consensi da parte della moglie Infine, l'attenzione si concentrerà su Beatrice La donna incontrerà Nico e gli riferirà a una notizia estremamente sorprendente Anticipazioni Un posto al sole, trama venerdì 10 gennaio nella puntata numero 5415 di UNE Sole vedremo Marina in crisi La donna, interpretata dall'attrice Nina Soldano, dovrà vedersela con una seria minaccia che rischierà di rovinare i cantieri La donna è stata poco trasparente Sarà intenzionata ad acquistare le quote dei cantieri e sarà proprio questo a impensierire Marina A un certo punto, però, la Giordano riceverà una proposta a dir poco spettacolare Ce la verrà a sapere che suo marito si è recato a parlare con la maestra della loro bambina Quando saprà che l'incontro è stato scontroso, la donna si ritroverà a discutere con Franco A un certo punto, gli chiederà di domandare scusa all'insegnante di Bianca Franco si lascerà persuadere da sua moglie Intanto si verificherà un incontro tra Nico e Beatrice Il giovane Poggi domanderà alla bella Beatrice notizie su Aldo e sul suo lavoro Un posto al sole spoiler, la notizia shock di Beatrice successivamente, apprenderemo del ritorno a D Fiamma tra Beatrice e Aldo Leone Con l'investimento avvenuto per mano del figlio, l'affascinante avvocato si era sentito costretto a lasciare La ragazza chiama seppur contro voglia Una volta chiarita la spinosa vicenda, l'uomo ha fatto retromarcia Tizia lascerà Nico di stucco Nei prossimi appuntamenti di Upas, che saranno trasmessi su Rai 3 nella seguente settimana, si parlerà ancora di Bianca La madre della bambina cercherà di spronarla e cercherà di farle prendere delle lezioni private Tanto vedremo come la vita di Giulia sarà smossa da una novità importante che sicuramente Trapperà un sorriso ai telespettatori fedeli della storica soap opera partenopea Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti